Dai, facciamo una bella pedalata insieme in questo straordinario deserto, dai, su, ecco qua, bene, cavalletti in sella, via! Chiaramente il ritmo è molto lento, sono leggermente in salita, per di più sto trascinando 90 kg di carico, la strada, la pista non è delle migliori, ha molti salti, molti sassi, però si riesce a procedere. Nella mia ho la fortuna di essere, la fortuna di essere a 2.500 metri di quota, quindi sono ben sceso, perché la stessa strada è fatta a 4.000, 4.500 metri di altitudine, la differenza è notevole. Qua però c'è questa aridità e questo caldo infernale, è non difficile la pedalata. Qua però c'è questa aridità? Sto procedendo a 7-8 orari, sto comunque tenendo una media generale di 10, ho percorso finora 27 chilometri e ne ho ancora circa 40. Soprattutto il problema sarà che fra circa un'ora e mezza arriverà il vento, che mi creeranno pochi problemi, anche perché tira su, oltre a calare la media e la velocità, mi tirerà su delle quantità notevoli di sabbia, attraverso dei mulinelli d'aria, dei vortici e tra sparadosso. L'ambiente come vedete è incredibile, però è duro. Allora 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 Siete! Siete!